Con il passare dei mesi e dei giorni la guerra in atto sta aggravando sempre di più la situazione del popolo ucraino. In quei territori si continua a morire anche di fame e sete, il conflitto si sta allargando e la crisi umanitaria peggiora di giorno in giorno. È un dramma nel dramma perché io non tento in tutti i modi con i nostri collaboratori di far passare il messaggio. In verità sui media se ne parla sempre meno, si parla di altre cose, si parla giustamente della crisi internazionale, economica, del rischio che non arrivi più il gas russo. È giustissimo, ognuno guarda le proprie tasche, come andare avanti e le difficoltà a fine mese. Io continuo a vedere delle situazioni invece di morte, di disidratazione grave nei bambini, di persone che non sanno come andare avanti, di persone che non possono andare in un negozio a comprare perché non c'è più nulla, di persone che si alzano alle 5, alle 4, si mettono in fila cercando di ottenere un pacco di sopravvivenza, una busta, un po' di patate, qualcosa per andare avanti e da riportare ai propri bambini. Ho visto i bambini seduti a terra senza nemmeno la forza di lamentarsi, come farebbero i bambini in condizioni di normalità. La mattina, l'altro giorno in cui abbiamo distribuito lì a Darkoff, ho cominciato a percorrere la fila e non finiva mai. Ho camminato per 9 minuti con un video, erano forse un chilometro e mezzo di gente alla fame e quando abbiamo finito è arrivata altra gente che non sapeva di dover aspettare il proprio turno e urlava disperata perché era affamata, questa è la situazione. Quindi noi non vogliamo mollare, cerchiamo con tutti i nostri mezzi possibili di continuare ad aiutare, ma dovete aiutarci, non ce la facciamo economicamente e proprio strutturalmente a reggere questo ritmo per gente che sta morendo di fame. A lanciare un nuovo disperato appello il presidente dell'associazione Cherigma, Sergio Dascenzo, appena rientrato in Italia, che ha registrato un netto calo delle donazioni alla sua organizzazione che da tempo è in prima linea per fornire aiuti e assistenza. Forse bisogna fare un salto di qualità a livello mentale, bisogna pensare se io fossi in guerra, se la mia nazione fosse in una situazione del genere, se la mia famiglia fosse coinvolta, se io non avessi più niente cosa mi aspetterei dai miei vicini di casa? Dai miei compaesani o forse dalla nazione vicina? Se questo è il nostro modo di pensare, virtuoso, è quello di metterci al posto dell'altro, forse abbiamo qualcosa ancora da fare, rimboccarci le maniche, mettere insieme più cose possibili, farmaci, alimenti in scatola, acqua, donazioni che ci aiutino a pagare i tir, perché diventano sempre più introvabili anche per la crisi in Ucraina, per riuscire a mandare ancora cose, proprio adesso che sempre di più, ogni giorno di più, la fame aumenta. Stiamo mantenendo il magazzino aperto a Teramo, nonostante sia calato così drammaticamente il flusso degli aiuti, lo facciamo ogni lunedì in questa fase estiva in cui c'è poca gente, dalle 15 alle 20, tutto il pomeriggio. Se avete bisogno in altri giorni, non riuscite a venire lunedì, contattateci e apriremo su domanda, su richiesta per l'occasione, ma aiutateci ad aiutare, la situazione sarà un dramma nel dramma con una strage umanitaria senza precedenti.